Il mercato delle licenze fashion in Italia sta vivendo una fase espansiva. A rilevarlo è stata ricerca, società dal 2022 parte di Pan Bianco attraverso il Fashion Consumer Panel, osservatorio continuativo dei consumi fashion degli italiani che monitora anche i prodotti licenza. Il 2022 ha segnato un più 11% valore rispetto al 2021, con un maggiore dinamismo per il mercato dell'adulto. La vivacità del mercato licenza è data dal fatto che ha già superato i livelli pre-pandemia, assegnando un più 4% sul 2019 rispetto al mercato non in licenza che è ancora sotto i livelli pre-Covid. Accanto agli storici attori come OVS, CNM e Original Marines, si vanno affermando anche nuove realtà per il commercio italiano quali Primark, Pepco, Kik e Sensei. Inoltre se i retailer la fanno da padroni nella vendita delle licenze, anche i brand premium si sono avvicinati a questo mondo negli ultimi anni, tra gli altri Lujo, Dottor Martins e Adidas. Nel Kids è il mercato più dinamico e composto da licenze legate al mondo entertainment, che pesano oltre l'80% del valore del mercato. Per ulteriori approfondimenti potete scrivere all'indirizzo comunicazionechiocciolassitaricerca.com.